Salve a tutti, un caro saluto da Francesco Samani. In questo video cercheremo di dire cosa è l'intelligenza e in particolare faremo una lezione introduttiva. Per iniziare è bello citare delle frasi che mi hanno colpito di più sull'intelligenza. Albert Einstein, la memoria e l'intelligenza degli idioti. Bertrand Russell, il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sempre sicurissimi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. E forse questa è una frase che condividiamo in tanti. Sant'Omaso Moro scrisse che io posso avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare. Che io posso avere la pazienza di accettare le cose che non possono cambiare, cioè le cose di fronte alle quali noi ci sentiamo, cioè comprendiamo di non avere potere. Che io possa soprattutto avere l'intelligenza di saperle distinguere. Tante volte capita nella vita che spendiamo tante risorse e a volte anche tante frustrazioni in qualcosa che non governiamo. Ecco, è interessante valutare anche questo aspetto. Il significato storico per l'intelligenza, la parola che utilizziamo viene dal latino, intelligenzia, deriva da intelligere, quindi intendere. E nel Medioevo questo termine fu attipuito soprattutto dalla teologia Dio. Infatti si parlava di intelligenza suprema. All'inizio l'intelligenza venne attribuita specialmente alle sole specie animali e in primis all'essere umano. Oggi addirittura l'intelligenza viene da alcuni attribuita in forma minore anche alle piante, organismi unicellulari e nel campo di ricerca dell'intelligenza artificiale si tenta di creare delle macchine che siano in grado di riprodurre o di simulare in parte l'intelligenza umana. Che è stato il primo a misurare l'intelligenza? E ci viene in aiuto una ricercatrice. What is intelligence? Essa studia la nascita dell'intelligenza e il pioniere dell'analisi frattoriale, allievo di Wundt e fortemente influenzato dalle opere di Francis Galpon, propose il coefficiente di correlazione per raggi di Spearman. Lui fu il primo a cercare di misurare l'intelligenza, condusse inoltre ricerche nell'ambito dell'intelligenza umana scoprendo il fattore G. Il fattore G cos'è? È un'abbrevazione di General Factor, fattore generale, ed è un costrutto teorico relativo allo studio dell'intelligenza umana, consistente in una generale capacità di risolvere problemi concreti o stratti di varia natura. Questo ricercatore, ragionando sul fattore generale dell'intelligenza, introdusse il cosiddetto modello congenerico, quindi un solo costrutto latente governa tutte le risposte manifeste. Le procedure statistiche da noi descritte sono diventate standard nell'ambito delle scienze comportamentali. In realtà sappiamo che vi sono tante tipologie di intelligenza e in questo ci aiuta uno studio di Gardner sull'intelligenza emotive. In particolare distinguiamo l'intelligenza emotivistica, scusate sono con il mouse o non sono con la tavoletta oggi, che è la capacità di apprendere e di ricorre il linguaggio per esponibilizzarlo in maniera appropriata. Un'intelligenza logico-matematica molto vicina anche al quoziente intellettivo, quindi alle prime forme di intelligenza che sono state misurate, che consiste nella capacità di analizzare problemi in maniera logica, eseguendo anche operazioni matematiche, utilizzando un pensiero di tipo logico e dirittivo. Vi è poi sicuramente un'intelligenza musicale che convolge quindi l'abilità sia di comporre sia di riconoscere che di riprodurre, quindi anche chi suona uno strumento di solito va ad allenare questa intelligenza. Poi vi è un'intelligenza corporeo-cinestetica, magari anche di molti sportivi, atleti, danzatori, preparatori atletici, che utilizzano il proprio corpo per risolvere i problemi attraverso il coordinamento dei movimenti del corpo. Vi è anche un'intelligenza di tipo spaziale, quindi riconoscere le coordinate spaziali e utilizzare lo spazio e le aree ad esso correlate, ad esempio i grandi architetti, ingegneri. Vi è poi un'intelligenza interpersonale che è la capacità di comprendere l'intenzione e l'immaginazione visiteri dell'arte persone. Inter-tra persone significa permettendo in questo modo di lavorare efficacemente in gruppo e all'interno di questa intelligenza interpersonale sicuramente vi è l'intelligenza emotiva di cui ha parlato Goleman. Poi vi è anche un'intelligenza intrapersonale, quindi dentro di noi, che consiste nell'essere cosci dei propri sentimenti, quindi di avere consapevolezza noi stessi e l'abilità di capire se stessi, individuando le proprie paure e motivazioni. Poi vi sono anche altre forme di intelligenza, ad esempio vi è anche l'intelligenza competitiva molto usata nelle aziende, nel marketing, che è molto legata all'economia. Infatti, che cos'è? Essa risamina l'evoluzione delle intelligenze competitive, affronta la questione dell'etica, esplora il modo in cui la tecnologia dell'informazione supporta il processo di intelligenza competitiva, e discute le opportunità di istruzione e formazione dell'intelligenza competitiva, comprese le competenze di base e la formazione continua. Potrete trovare all'interno di queste piccole sintesi anche dei riferimenti più importanti.